Oh, c'è questo fracchia, olè! Ben arrivati! Tutto a posto? Bene? Ale, ale, ale! Forza! Tutto bene? Ale, ale, ale! Ben arrivati! Grazie a tutti per aver scelto la cinquantesima edizione della Staminaia. Cinquant'anni! Ehi, quattroci! Ti stanno bene gli uccelli? No, non tirarle via, ti stanno così bene? Intanto abbiamo il sossofondo del liceo musicale Carca Ventina, che ringraziamo. Poi ci sarà anche un'esibizione, lì per lì, fisica al via, faranno alcune esibizioni per noi. Della Staminaia si svolse nel 72, fu una notturna, una serale, e la distanza era di 24 km e 700 metri. Si svolgeva appunto intorno alla città, nella circondalazione, e da lì, con 6.000 partecipanti, diventa poi internazionale. Iniziavano a partecipare diversi atleti, e poi arrivavano anche a gare importanti, come per esempio la maratona di Monaco di Baviera, stiamo parlando di Franco e Menegue. E poi ci sono i nostri fotografi di Andy Pix, tutte le vostre foto le troverete appunto su Andy Pix, basta che mettiate un vostro selfie, e da lì potete scaricare poi le foto. E mi sa che è l'aeros, no, quello che è la maratona di Monaco di Baviera. Allora ragazzi, benvenuti, quindi fanò molto la nostra bella arena, questo bellissimo fratto, sarà invaso dall'Aran Generation 2023, e l'invito è quello proprio di lasciare l'arena, come la vediamo adesso, pulita. Ma dove? Primo dopo il cancello. Sappiamo che i runners sono persone educate, civili, e quindi noi vogliamo lasciare... Primo dopo la cosa verde. Bella, come la troviamo adesso. Bella vedata ragazzi. Ha attraversato la cosa verde. Non ha attraversato niente, basta. Ma è lui, ma è impossibile. Ma adesso dove sarebbe? Che ci metterete ovviamente sul vostro formaggio, a tantissime nazioni, abbiamo appunto sentito l'Avila, Inghilterra, Cercosovacchia, insomma di tutto di più. Una Milano che apre le porte a tutto il mondo. Ma chiudi. Cos'è? Ero, segnato. Allora, cosa devi chiudere? Chiudi, se no io parlo e le registri... Ma è in piedi? Allora, ragazzi, forza, ben arrivati, potete trovare un bel ristoro che vi aspetta, grazie a tutti i nostri sponsor e obiettori. Ci sta a Milano e... Dove è il mio figlio colore? Eh, ora l'ho perso, ma ho visto la... Sei girato adesso? Ho visto la zona, sì, sì. Vicino a questo pallone c'è l'è, blu. Sì, 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 sì. È arrivato bene, eh? È arrivato da più di 50. Se il liceo pensa che ringraziamo della loro presenza e della loro esibizione, loro ci saranno da sottofondo, quindi possono proseguire i loro brani? No, io lo vedi, è in piedi, con uno nero sta andando, perché è un po' più alto di lui, no, è uguale. Sì, sì, sta andando verso... C'è il labbro davanti, questo affare qua davanti. E poi non triciamo più di più? Ma è impossibile che sia già arrivato. Alle 12.12.30 ci sarà l'esibizione dell'Aeronautica dei Carabinieri che atterreranno, quindi si lanceranno dal cielo di Milano per atterrare qui nel centro dell'Aeronautica. Voi ancora in via? Non ho perso, non ho capito. Eh, io sono nella zona, però mi sa che l'ho perso pure io. Quindi grazie ai nostri sposo, a partire dal Banco Popolare Milano e Senunica di Adora. Il nostro sponsor tecnico, l'hanno visto nella conferenza stampa che c'è stata recentemente, Gerudio Bologino, che è un po' anima di Adora, che magari vedremo anche qui oggi, vediamo. E poi i nostri parco ufficiali, Auea, ACM, SEA, Chievezia e Manpower Group. In piedi non c'è più. Grazie al patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Esercito, L'Arma dei Carabinieri. Grazie alle nostre affiliazioni, alla World Olympics, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e alla CONI, al Regione Lombardia, ai vostri media patria. Prova a chiamarlo, che lui ti sente, prova a mandare, guarda che siamo, io e il papà, nella tribuna centrale, nella tribuna d'onore, diglielo. Motoclub, 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 City Angels e Vecco, in produzione esposti in vanno, per i conosciuti dal cani. Ero, mamma, sono qui sulla gradinata della tribuna d'onore, cambiamo disco. Vai, ciao. Ma, cioè, ti dice Amarlo proprio? No, no, manda un messaggio. Ma, ma non lo vede, il messaggio non ha tempo. Ma se gli arriva, ma magari non lo legge, se gli manda una chiamata per il proprio, girati e vieni verso di noi. Cioè, proprio per fare tutte le cose all'incontrario. Benvenuti in Arena, avete concluso la cinquattresima edizione della Stramilano, la classica ormai. Ciao. E il percorso della città che ho, perché partita esattamente nel 1930, partita da Piazza Duomo, ho percorso un cercativo, non proprio proprio nel circo di Miao, andato in Piazza della Scala, in via Senato, via Palestra, in Corsi Venizi, a Piazza San Babi, la Corsi Matteotti, e poi via Rosario, e poi Piazza del Cannone, per arrivare appunto alla Roma. qui trovate il ristoro, trovate l'area massaggi. Ma non era lui. Homepex e Ecolife, che sono appunto la scuola di massaggiatori.